Abbiamo Ducatisti da 50 nazioni, da 5 continenti, una tribù di gente che ci crede. Forza Ducati! Ducati! E' bellissimo, non ero mai venuto prima e devo dire che è una grande emozione. Ducati! E' un grande evento, ero qui due anni fa, ma ora c'è più. Giro d'onore della Superbike, Carlos Ceca, campione del mondo in carica, un saluto al popolo del VDV. Ciao famiglia Ducati, ci vediamo in questi giri d'onore, per tutti voi. Giro d'onore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.